I prodigi del pensiero positivo di Amadeus Waldben, ventinovesima lettura. Recatevi prima col pensiero dove andrete poi di persona, scrive Enni Bensat, che è costume in alcuni settori della cristianità di far procedere l'invito di una missione in qualche regione da evangelizzare da una precisa e prolungata opera di pensiero. Un piccolo numero di persone si riunisce per alcune settimane prima che la missione parta. Preparano col pensiero il terreno in cui dovranno operare, immaginando il luogo come se fossero presenti. Meditando intensamente si crea un'atmosfera pensiero molto favorevole alla propagazione dell'insegnamento che verrà impartito in quella regione e si preparano i cervelli ricettivi al desiderio di essere istruiti. Questo lavoro del pensiero è accresciuto dalla intensità di ferventi preghiere che completano questo esercizio. Provate anche voi a usare un metodo analogo. Quando dovete recarvi in ambienti per voi nuovi e ignoti, se dovete recarvi in qualche luogo, tra persone che dubitate possano accogliervi poco favorevolmente, parlare in pubblico, essere inquisito, fare un viaggio eccetera, preparate il terreno recandovi prima là col pensiero. Visualizzate l'ambiente, i luoghi, le persone. Irradiate pensieri d'amore e di bene e, se necessario, parlate alle persone come fossero presenti dinanzi a voi. Se fate ciò con fede e fiducia, quando andrete di persona, potrete trovare le persone e l'ambiente disponibili e favorevoli e tutto potrà andare per il meglio, come è già avvenuto a chi ha fatto questa sorprendente esperienza. Recati col pensiero dove prima andavi di persona, ma ti devi recare con tutto il pensiero cosciente e operante, attraverso un'applicazione graduale ma costante. Devi rafforzare la tua capacità di operare col pensiero ed aggiungere a fare con esso quello che faresti con la parola, come se avessi un telefono tascabile che porti sempre con te. Sostituisci man mano quello che faresti con la parola, con l'azione della mente.